Ciao a tutti, manate di Milan e non, siamo in Autogrill Vi chiedete, Sato, che cazzo ci fa in Autogrill? Stiamo andando a vedere Milan Futuro Milan Futuro contro l'ultima in classifica, una squadraccia Io spero, mi auguro almeno oggi, di vedere un Milan Futuro diverso, di vedere una vittoria Milan Futuro che sta facendo fatica, ragazzi E almeno oggi contro l'ultima in classifica bisogna fare assolutamente punti, bisogna vedere un Milan diverso Spero di vedere qualità, perché la rosa ce l'ha, la qualità la rosa ce l'ha e come E niente, ripeto, parte importante perché contro l'ultima in classifica veramente c'è bisogno di una vittoria Per sollevare un po' l'animo di una squadra che sta facendo, ripeto, fatica Vi porto con me allo stadio Chinetti, Solbiate e Arno Speriamo di vedere una bella partita Come vedete sono malato di pallone, vi porto a far vedere anche Milan Futuro Però mi piace, mi piace vedere Milan Futuro perché non essendoci comunque la componente tifo Posso analizzare meglio, vedere un po' di più il campo, aspetti tecnici eccetera eccetera E in più, soprattutto, posso far vedere un po' di più, visto che non sono in trasferta, non sono in curva E posso monitorare col chat, posso registrarvi più roba Quindi ragazzi, vediamo allo stadio Chinetti, Solbiate e Arno Arrivati Vi faccio vedere un po' lo stadio Stadio delle grandi occasioni ragazzi Parcheggio 3 euro oggi, un'altra volta era gratuito, oggi ho pagato pure il parcheggio 3 euro E abbiamo detto ordini dall'alto Sono appena uscite le formazioni ufficiale Balloture titolare in Serie C Mamma mia, mi vedo l'esordio di balloture con Milan Futuro Siamo La Madonna, innamorato parte Insomma Che classe Mamma che forte Ande ballo Mamma mia ragazzi, e come lo fermi? E come lo fermi? Calcio, calcio, Balloture, calcio Bravo Matti Bravo No 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 Oh! Il primo tempo è finito. 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 Direi che si può concludere qui l'esperienza di Bonera al Milan Futuro. Peccato perché con 4-3-3 secondo me... Bella luce, qualcosina di migliore si è visto oggi. Poi Baluturea decido di farse spellere e nulla. Vabbè, assurdo.